C'è una giornata molto interessante perché si trattano temi di fondamentale importanza, molto innovativi, in quanto la misurazione dell'impatto è sempre più strategica sia per indirizzare i piani industriali di aziende, come nel caso di Enel, sia per attrarre investitori e partner nella definizione di strategie di business sostenibile, dove per business sostenibile intendiamo fare business tenendo conto degli aspetti sociali, ambientali, economici, non solo dell'attore che va a fare business, nel nostro caso un'azienda che produce e distribuisce energia elettrica con un approccio volto anche all'integrazione e alla convergenza in questa fase di transizione del mercato energetico, sia nei mercati maturi che nei mercati emergenti. La misurazione degli impatti è altresì importante perché ci permette di indirizzare quelle che sono le nostre azioni in termini di soddisfacimento dei commitment rispetto ai Sustainable Development Goals. Enel ha quattro forti commitment sull'accesso chiaramente a un'energia affidabile, economica e pulita, spingere lo sviluppo socio-economico delle comunità dove noi andiamo ad operare e questo anche portando azioni di educazione e non ultimo l'aspetto fondamentale del climate change che coinvolge un po' tutti noi in questa fase storica del mondo. Giornati come questa sono inoltre importanti perché permettono di aprire un dibattito, fondamentale è il concorso di diversi attori, quindi non solo aziende ma università, piuttosto che società di consulenza, piuttosto che pubbliche amministrazioni su questi temi ed è importante che tutto ciò porti alla definizione di standard condivisi e di azioni condivise a tutti i livelli che permettono che questo approccio, quest'idea che è molto importante possa prendere piede e diventi patrimonio comune di tutte le persone che oggi parlano di sostenibilità nel mondo contemporaneo.